cari amici di mille un'avventura un po la voce mi è tornata quindi proviamo a fare un nuovo video che riguarda come abbiamo visto qualche tempo fa un argomento matematico logico vediamo di che si tratta ecco vedete in questo video che avevamo presentato qualche tempo fa dinamiche elettorali avevamo preso spunto innanzitutto dal nostro amatissimo commodore 64 per esplorare un programmino del 1985 di tanti anni fa che andava a esplorare certe dinamiche elettorali la convinzione che può avere qualcuno di votare per un determinato partito influenzato in modo casuale dai propri vicini e proprio grazie al commodore 64 si riusciva con un programma in basic a vedere come potevano evolvere queste situazioni e si arrivava alla morte della democrazia addirittura quindi se andiamo un po avanti ecco qui che vediamo il programma o meglio le schermate del commodore 64 e più avanti ancora il numero di scientific american in cui veniva presentato l'articolo originale che riguardava queste particolari dinamiche elettorali e andando avanti si trovava anche ecco qui l'articolo originale con questa scacchiera che un programmatore italiano appassionato di scienza e di cose di questo genere appunto era riuscito a riprodurre sul commodore 64 e noi eravamo andati a cercare questo programmino per scoprire come mai questa scacchiera piena di elefantini e di asinelli che rappresentano i partiti democratico e repubblicano degli stati uniti d'america come mai un certo punto pur partendo da configurazioni casuali si arrivava ad avere una schermata completamente di asinelli o completamente di elefantini e questo veniva appunto detto nell'articolo la morte della democrazia ecco ricordando questo video ve lo siete persi andatelo a vedere ha fatto un discreto successo e di qualche tempo fa abbiamo preso prima però interrompiamo il video perché ecco abbiamo preso spunto da un articolo di le scienze la versione l'edizione italiana di scientific american di questo mese ora di questo mese ve la potete comprare in edicola io ne parlo perché ovviamente ce l'ho qui sulla mia scrivania quindi non ho rubato nessun articolo ne parlerò senza mostrarlo lo andrete a vedere comprandovi la rivista se volete ecco questo le scienze ci sono vari articoli sugli oceani miniere sulla luna cose di questo genere ma poi andando a sfogliare nelle pagine più interne si trova quello che una volta era l'articolo diciamo di matematica ricreativa oppure di computer recreations come negli anni 80 su scientific american che invece per la versione italiana è gestita dai rudi matematici matematica ricreativa rudi matematici già ci stiamo preoccupando però nel loro blog che penso si possa appunto sfogliare andando a vedere di cosa parlano nel in questo blog ecco parlano tutti i tre autori che vedete qui che qui si vedono in piccolo ma mi pare di aver trovato una foto online che li riproduce in tutta la loro simpatia tra l'altro vedo qui un braccio rotto mi dispiace non è comunque in ogni caso una situazione in cui si divertono tantissimo come si divertono sicuramente a creare tutti i loro enigmi giochi matematici per le scienze e che cosa si sono inventati in questo mese come per farci arrovellare per farci scoprire un po' di quanto sia bella la matematica quando non so non sia solo equazioni no che ci fanno studiare per forza no ecco si sono inventati una situazione particolare che adesso vi spiego con l'aiuto di questi di questi simpatici eccoli qua facciamone vedere un po' di più di questi simpatici camaleonti vedete ci sono camaleonti che sono gialli verdi e blu allora si sono inventati questo problema matematico sempre simpaticamente presentato ma che in sostanza dice che su una certa isola i camaleonti non hanno predatori diciamo che li minaccino e quindi il fatto che possano cambiare colore per mimetizzarsi nell'ambiente questa specie di camaleonti invece usa questa capacità eccoli qua che li mettiamo tutti belli in ordine usano questa loro capacità ecco per scopi sociali e hanno questa caratteristica se due camaleonti si incontrano per esempio uno giallo e uno verde dato che hanno colori diversi per entrare in sintonia decidono di assumere lo stesso colore cioè entrambi diventano blu colore diverso da quello che avevano quindi non prendono il colore del di chi vedono di fronte a loro perché diventerebbe un po' complicato no uno era verde l'altro giallo si scambiano i colori e continuano ecco invece per questi motivi pseudo sociali o quello che che possono essere anche sessuali probabilmente ecco si incontrano solo due camaleonti cambiano colore assumendo il terzo colore possono assumere solo questi tre colori e quindi se erano verdi e gialli diventano entrambi blu ecco immaginate questa prima vignetta si incontrano si salutano e diventano blu ecco qui si parlava da parte dei rudi matematici di in qualche modo essere politicamente corretti io sono diverso da te cambiamo colore diventiamo uguali però c'è un problema che ci sono tanti camaleonti su quest'isola e penserebbero proprio una grande sciagura diventare tutti uguali quindi per qualche motivo quando si incontrano a coppie cambiano colore diventano uguali ma diventare tutti azzurri o tutti blu come in questo caso sull'isola sarebbe un enorme sciagura non si sa perché ma comunque questo è il la situazione è questa se si incontrano più di tre camaleonti non succede niente se si incontrano due camaleonti blu non succede niente solo se hanno colori diversi quella coppia che si è incontrata cambia colore quindi se si incontrassero per esempio un giallo e un blu diventerebbero tutte e due verdi ecco mi sembra che il concetto si sia capito non è complicatissimo e che cosa succede in questa proposta matematica dei rudi matematici chiedono se è possibile che i nostri camaleonti possono raggiungere la situazione che odiano di più diventare tutti uguali proponendo come situazione iniziale un certo numero di blu facciamo 17 un certo numero di verdi facciamo 15 e un certo numero di gialli facciamo 13 17 15 13 quella è la situazione di partenza a questo punto voi potreste mettervi lì mi pare di aver spiegato bene il problema se non l'avete capito chiedete qui sotto informazioni perché da adesso inizia la situazione spoiler cioè andremo a ragionare sul problema almeno ragionerò io sul problema e voi se volete seguite oppure se volete precisazioni sul problema chiedete qui sotto nelle domande prima di andare a vedere il resto del video perché che cosa ho fatto la prima cosa che ho tentato di fare è essendo molto pigro quando ci sono questi problemi bene rudi matematici mi avete proposto questa situazione e allora io prendo p5.js questo sito dove c'è questo linguaggio che è javascript e mi faccio un programmino che si vada a risolvere il problema con la forza bruta col metodo di monte carlo io prendo come era la situazione iniziale vi ricordate facciamo 17 gialli 15 verdi e 13 blu quindi in totale sono 45 camaleonti perciò ho preparato una griglia 7x7 che arriva a 49 ci saranno degli spazi liberi e ho detto bene ecco qui tutti i nostri camaleonti 17 15 13 e facciamoli incontrare casualmente lancio il programmino che ho scritto poi se vorrete se interesserà qualcuno chiedete qui sotto nei commenti vi metterò un link così potete andarvi a vedere il mio programmino però che succede ecco prendo a caso un camaleonte con il generatore di numeri casuali di javascript o comunque di p5.js che facilita un po le cose mettiamo che venga scelto questo particolare camaleonte giallo che succede ne vado estrarre un altro magari viene estratto questo bel camaleonte blu qui sotto loro si incontrano e chiaramente decidono di diventare verdi per rispettare questo politicamente corretto allora sparirà un giallo sparirà un blu compariranno due verdi che andranno aumentare la parte verde mentre le altre parti diminuiranno e questo lo continuo a fare per ogni frame si riescono a fare 500.000 incontri prova a far partire la simulazione vediamo che succede ah no scusate devo cliccare qui vedete succedono no che diminuiscono i gialli diminuiscono i verdi aumentano diminuiscono e se guardate siamo già arrivati a 23 milioni di incontri quindi sembra che i nostri camaleonti i nostri 45 camaleonti su quell'isola non abbiano problemi si incontreranno cambieranno colore per rispettare il compagno che incontrano se si incontrano in tre non succede nulla mantengono il loro colore se si incontrano in due con lo stesso colore non succede nulla però se si incontrano di colori diversi si cambiano 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 il colore entrambi il terzo colore e siamo già arrivati a 94 vedete siamo arrivati a 100 milioni di incontri e non è ancora arrivata diciamo questa specie di morte della democrazia come sarebbe appunto successo in nell'altro gioco dell'altro video quindi possiamo essere sicuri che non succederà mai purtroppo no dobbiamo dimostrarlo perché è molto lento l'uso di questi scambi non funziona diciamo in modo rapido per essere sicuri mai ovviamente non si è mai sicuri si è solo sicuri se dovesse essere trovata una situazione in cui diventano tutti uguali vi faccio vedere un esempio quello che intendo per esempio facciamo una cosa veloce prendiamo dei gialli che siano per esempio tre gialli quattro verdi e cinque blu in quest'isola ci sono solo 12 camaleonti che hanno questa configurazione 3 4 e 5 allora cominciamo a farli incontrare e vediamo se davvero rapidamente raggiungono un colore uniforme e comincio e devo cliccare non mi ricordo più vedete sono pochissimi quindi a caso li facciamo incontrare siamo già arrivati mi pare che siano quindi 19 20 milioni di incontri già e non è successo nulla faccio una piccola modifica faccio diventare i gialli li lascio 3 i verdi e i blu li faccio diventare 5 vediamo che succede via partiamo 482 incontri sono diventati tutti gialli i numeri erano 3 gialli 5 verdi 5 blu i gialli erano di meno sono diventati tutti gialli se lo faccio ripartire di nuovo tutti gialli 2819 incontri ci sono voluti questa volta continuo così vedete che il numero sulla mia spalla destra continua a cambiare ripartiamo sempre dalla situazione 3 5 5 ma diventano tutti gialli sorprendente perché i gialli erano molti meno proviamo a mettere un giallo 5 verdi e 5 blu partiamo da questa situazione vedete un giallo da solo l'unico giallo dell'isola 5 verdi 5 blu facciamo partire 4037 incontri a coppie tutti gialli 1655 tutti gialli e così via ecco cosa capiamo da questo primo esperimento fatto col metodo di monte carlo incontri casuali su un piccolo numero di camaleonti che se i numeri per esempio di due numeri sono uguali di verdi e blu in questo caso il numero diverso anche se piccolo sarà quello che alla fine prevarrà ci deve essere qualcosa di fondamentale sotto evidentemente gli incontri permettono a chi è in numero pari di cambiare colore e poi di diventare tutti alla fine gialli e da quel momento lì in poi non succede più nulla perché sono tutti gialli si incontrano ma rimangono gialli però è una situazione secondo il racconto dei rudi matematici che volevano che volevano i nostri camaleonti evitare assolutamente se mettessi che so 8 facciamo cambiamo colore 8 gialli 8 verdi e due blu ecco adesso sono uguali il numero dei gialli e dei verdi ci sono solo due blu scusate devo ricaricare per far partire però ecco lì due blu azzurrino blu faccio partire tutti blu ai qui mi hanno smentito tutti gialli due ho capito perché scusate mettiamo tre blu tre blu tutti blu ci sono volute 309 mila 309 mila incontri per arrivare essere tutti blu ma ci sono arrivati e di nuovo gialli e questo scombina un po scombina un po le mie idee mettiamo un po mettiamone uno solo di blu no è perché non ho fatto ripartire uno solo blu tutti blu tutti blu sto riprovando continuamente tutti blu uno solo se ne metto due cambia colore proviamo a metterne 7 di blu i tempi si allungheranno molto e quindi 8 gialli 8 verdi 7 blu arriveranno a questa situazione tutta uniforme vedete che i tempi si stanno allungando enormemente siamo già 8 milioni di incontri siamo su 10 milioni 13 14 è molto lunga questo lo fermiamo facciamo dei numeri un po più piccoli 554 tralunga lo stesso e via partiamo ma comunque tutti blu 554 i 4 sono i blu non è lunga come pensavo proviamo aumentare un attimo 6 6 e 5 a per forza non avevo vabbè ripartiamo vedete 6 6 5 facciamo partire tutti i gialli velocemente hanno 6 6 6 6 ho fatto allora 6 6 5 ci riusciremo prima o poi facciamo ripartire avviamo tutti i blu 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 aumentiamo certe mie certezze stanno come vedete in diretta mentre sto registrando il video si stanno un po frantumando 7 7 6 i 6 sono i blu ci vuole un po più di tempo vedete ma diventano tutti blu pur essendo appunto blu il numero più basso e passiamo a 8 8 6 tanto per anzi 8 8 7 facciamo ecco 8 8 7 i 7 sono i blu cominciano a incontrarsi siamo a 7 milioni 10 milioni di incontri 12 13 14 e così via 20 milioni di incontri sembra che non raggiungano il l'uniformità però vedete 30 milioni di incontri ci sono voluti ma sono diventati tutti i blu e più si aumentano i numeri più tempo ci vuole ma ci sono situazioni in cui adesso ci hanno messo 2 milioni soltanto siamo stati fortunati il metodo di monte carlo è casuale quindi a volte è un caso ottimale a volte come prima invece ci vuole moltissimo anche adesso solo 6 milioni non siamo arrivati ai 30 milioni di prima 8 milioni sì quindi era proprio un caso disgraziato il primo che ci ha capitato come erano diventati tutti i blu però come dicevo ci sono situazioni che non arrivano all'equilibrio se noi mettiamo proprio pochissimi camaleonti per equilibrio intendo colore uniforme per esempio guardiamo questa situazione qui uno blu due verdi tre gialli e lanciamo la simulazione sono pochissimi il metodo di monte carlo con questi incontri casuali avrà già fatto incontrare più volte gli stessi camaleonti con combinazioni diverse di colori ma siamo arrivati a 20 milioni di incontri che prima erano più che sufficienti con un numero molto più grande di camaleonti ma ci vuole più tempo e in realtà si può dimostrare che non riusciranno mai a diventare tutti dello stesso colore e in particolare un'altra situazione in cui non possono diventare dello stesso colore è quella proposta dai rudi matematici 17 15 13 ecco col metodo di monte carlo potremmo star qui una vita ma non perché è davvero lungo ma perché è impossibile che diventino tutti dello stesso colore e allora vediamo qual è il ragionamento se volete pensarci e interrompete qui il video per capire quale potrebbe essere la situazione come mai prima mettendo per esempio due numeri uguali è abbastanza ovvio che arrivino a una situazione tutta uguale però per esempio se io mettessi 13 quindi 1 blu 4 verdi e poi mettiamo 5 gialli ecco sembra una situazione più o meno come prima però vedete tutti gialli tutti gialli tutti gialli sempre tutti gialli pensavo che potessero diventare anche blu ma sono sempre tutti gialli forse perché sono più i gialli dei verdi e dei blu anzi no dovevano essere tutti gialli sto un po pensando le mie idee che mi ero fatto poi qui adesso ovviamente le vado un po a rivedere ma in realtà dovevano essere tutti gialli 5 4 1 tutti gialli ma uno diceva perché i gialli sono di più ma proviamo a mettere 1 blu 5 verdi e 9 gialli e uno diceva 9 gialli sono di più come prima vinceranno loro c'è un solo blu partiamo ci vuole un po dovrebbe funzionare perché ho sbagliato scusate questa è una situazione in cui forse non funziona dovrei fare due calcolette dovevo mettere 8 ci state capendo più niente ma allora adesso sono 8 gialli 5 verdi 1 blu partiamo tutti blu tutti blu tutti blu tutti blu eppure erano solo e prima quelli che vincevano erano i gialli che erano 5 allora per finire il video 5 minuti vi spiego la mia idea comunque voi potete pensarci e qui sotto nei commenti potete dirmi si guarda la tua idea in effetti funziona ma è più semplice vederla in questo modo oppure c'è anche questa soluzione vediamo se qualcuno si appassiona questo problema e qui sotto nei commenti mi dice qualcosa allora per capire un po come ho ragionato per trovare l'inghippo e l'inghippo è semplicemente questo se ci sono un numero di camaleonti che differiscono per un multiplo di 3 allora diventano tutti colorati uguali per esempio se c'è 1 4 differiscono di 3 unità e poi un numero qualunque diventano tutti dello stesso colore ci vuole una differenza tra i numeri dei nostri camaleonti di 3 oppure 6 9 un multiplo di 3 e per capirlo no questo ragionamento come si può fare partiamo facciamo il contrario partiamo da una serie di camaleonti tutti uguali tutti blu come sarà come saremo arrivati a questa situazione gli ultimi due camaleonti a diventare blu vuol dire che nel passo precedente erano uno verde e l'altro giallo e cos'è successo il verde e il giallo si sono incontrati hanno visto che erano di colori diversi hanno deciso di diventare tutte due blu e sono spariti e la colonna dei blu è aumentata la vedete qui c'è una colonna di camaleonti tutti blu immaginate che siano che so 100 300 quello che volete nel passo prima che diventassero tutti blu ce ne volevano due verde e giallo per diventare blu quindi è come se andassimo indietro nel tempo in questo ragionamento ora cosa potrà essere successo prima ecco prima visto che il giallo e il blu il giallo e il verde sono solo uno non possono incontrarsi con con dei con dei blu ma perché no potrebbero incontrarsi questo giallo cioè se si fossero incontrati un blu e un giallo vediamo se ce la faccio spiegarlo perché non è facile in effetti senza averlo spiegato prima uno va un po' così abbraccio se ci fossero stati un blu e un giallo nel passo prima che si fossero incontrati quel blu e quel giallo sarebbero diventati due verdi ma io di verde ne vedo uno solo quindi quando due camaleonti si incontrano producono sempre due camaleonti dello stesso colore vuol dire che nel passo precedente ancora si sono incontrati un giallo e un verde diventando due blu quindi facciamo due passi indietro ed eccoli qua questa era la situazione due passi prima che diventassero tutti blu a questo punto però vedo che ci sono due blu due gialli cosa poteva essere successo prima per esempio di nuovo due blu potevano essere prima un verde un giallo quindi queste due colonne continuano ad aumentare questo è il motivo per cui nella simulazione che avete visto prima se non c'è un numero enorme di camaleonti in pochi secondi se ho due colori uguali prima o poi diventano tutti blu perché appunto è questa una situazione in cui i camaleonti potrebbero preoccuparsi di diventare tutti uguali e perché appunto la vedete qui io potrei continuare a immaginare che i blu a coppie che sono qui fossero stati generati da un incontro tra un verde e un giallo e quindi tre quattro cinque sei eccetera potrebbero crescere sempre di più però cosa potrebbe anche succedere adesso che sono due quindi prima condizione se due colori hanno lo stesso numero o meglio ancora meglio tre diventeranno prima o poi dello stesso colore hanno la possibilità di diventarlo adesso vediamo un'altra regola però adesso abbiamo due verdi anzi mettiamone di più abbiamo tre verdi e tre gialli cosa potrebbe essere successo nel passo precedente potrebbe essere capitato che questi due verdi qui che sto alzando adesso fossero un giallo e un blu che si sono incontrati quindi purtroppo non ho un altro giallo adesso lo faccio comparire eccolo questi due verdi qua che adesso faccio sparire nel passo precedente potevano essere un giallo e un blu che si sono incontrati per formare due verdi ovviamente il giallo e il blu che si sono incontrati formando due verdi un giallo se ne va e un altro blu se ne va cioè le colonne che si incontrano dei colori che si sono incontrati scendono di una unità ma il colore che si forma dall'incontro aumenta di due unità e nel programma faccio una cosa di questo genere quindi che cosa succede si incontrano il giallo e il blu spariscono perché sono diventati verdi e quindi nel passo precedente vedete come sono le colonne c'è una lunga fila di blu non ci interessa ma questa colonna di verdi e di gialli differisce per tre unità ci sono tre camaleonti in più quindi o due colori sono uguali e dopo un po' di tempo anche lunghissimo diventeranno tutti dello stesso colore oppure può anche capitare che una colonna abbia un certo numero l'altra ne abbia tre elementi in più in ogni caso in questa situazione possono diventare tutti dello stesso colore per quale motivo perché un blu e un giallo potrebbero incontrarsi spariscono perché sono diventati verdi e siamo tornati alla situazione in cui due colonne sono uguali e da lì in poi è facile vedere che se tutte queste coppie si incontrano diventano tutte dello stesso colore e questo ragionamento si può estendere non è detto che debbano essere tre in più di un colore possono essere sei nove e così via quindi tornando al nostro esempio se io qui mettessi 8 5 1 come prima ecco 8 5 1 come mai diventano tutti azzurri perché i verdi sono cinque i gialli sono 8 e c'è una differenza di tre unità 5 più 3 8 se invece di esserci un 8 qui c'è un 7 comunque diventano tutti dello stesso colore vediamo se è vero si diventano tutti verdi perché diventano tutti verdi perché i blu erano uno solo e quindi da 1 a 7 c'è una differenza di sei unità quindi anche se da 5 a 7 ci sono solo due unità da 1 a 7 ce ne sono sei e diventano tutti dello stesso colore proviamo invece una situazione in cui non ci sono queste differenze quindi tre numeri diversi ma l'importante è che non differiscano di tre unità allora di blu ne metto due per esempio 2 più 2 fa 4 quindi la differenza tra 4 e 2 non è di 3 adesso dobbiamo studiare il terzo numero in modo che non sia legato al 4 e al 2 con dei multipli di 3 quindi se ci metto 7 7 meno 2 fa 5 non è un multiplo di 3 7 meno 4 fa 3 non va bene mettiamo 9 proviamo con 9 9 meno 4 fa 5 non è un multiplo di 3 9 meno 2 fa 7 non è un multiplo di 3 4 meno 2 fa 2 non è un multiplo di 3 in quella situazione lì se facciamo partire la simulazione anche se non sono un numero eccessivamente grande la simulazione non finirà mai perché non riuscirà a far diventare tutti dello stesso colore bene più di mezz'ora di chiacchierata cercando di farmi farvi capire i miei ragionamenti assurdi se qualcuno di voi trova una soluzione più semplice per capire un ragionamento più semplice per capire quale deve essere la regola perché non diventino tutti dello stesso colore scrivetemela qui sotto perché mi interessa la soluzione uscirà sul numero di scienze di novembre allora andremo a vedere poi qual è la soluzione di questa cosa qui qui è inutile andare avanti non ci riusciremo mai a farli diventare tutti uguali basta una piccola modifica era 2 4 e 9 se metto 2 4 e 8 anzi aumentiamo il numero così si capisce che non era il numero grande che non mi faceva finire la simulazione dicevamo tra 4 e 9 la differenza è di 5 se metto 10 ecco 10 meno 4 fa 6 ho addirittura aggiunto un camaleonte e ora lanceremo eccolo lì che abbiamo 10 gialli 4 verdi e 2 blu lanciamo la simulazione ci è voluto un attimo in realtà ci sono voluti quasi 32 mila incontri sono diventati tutti blu e il blu è il colore che non differisce di un multiplo di 3 rispetto agli altri ed è quello che diventa uguali ed è quello che diventa il colore che diventa poi il colore di tutti i camaleonti quindi si può anche prevedere guardando la sequenza di numeri quali colori saranno per esempio se metto il blu lo facciamo diventare 7 il giallo 11 quindi giallo 11 verde 4 blu 7 i due colori che differiscono per tre unità sono il blu e il verde dovrebbero diventare tutti gialli che tra l'altro sono anche in numero superiore ma non c'entra il fatto che il numero sia superiore eccoli qua vediamo l'ultimo lancio di questo programma dovrebbero diventare secondo la mia previsione non mi ricordo già più ah sì tutti gialli lanciamoli staremo qui dalle mezz'ore perché ci vorrà tanto tempo ma prima o poi diventeranno no ci sono voluti solo 12 milioni 382 mila incontri casuali e sono diventati tutti gialli se ci riproviamo solo 60 solo 636 mila incontri stavolta sa perché la prima volta che lo lanciamo è sempre quella più disgraziata stavolta 5 milioni e mezzo di incontri e tutti gialli di nuovo bene non so quanto vi possono interessare video di questo genere mi sembrava interessante fare un collegamento con quell'altro video in cui avevamo parlato di un altro articolo di scientific american quella volta ha legato al commodore 64 e invece come avete visto questa volta abbiamo rispolverato il nostro p5 js che ci ha permesso con questo metodo detto metodo di monte carlo di scegliere coppie casualmente e di farle incontrare per vedere se prima o poi si arriva un colore unico non è detto che se non arriva un colore unico soprattutto con numeri grandi che non sia possibile che capiti perché semplicemente il numero è così grande che ci vorrebbero un enorme numero di incontri e cresce sempre di più in modo esponenziale più aggiungete camaleonti più il tempo d'attesa aumenta a me non resta quindi che ringraziarvi per l'attenzione e ci si rivede in uno dei prossimi video in una prossima diretta ciao a tutti ciao